Si chiama Marta, acronimo di Marche Trasporti App ed è il nuovo sistema di bigliettazione elettronica valido per i trasporti pubblici locali della regione. Si partirà quest'estate da Pesaro e nel 2025 sarà possibile viaggiare su autobus o treno in tutte le province marchigiane con un'unica smart card elettronica o con un biglietto QR code da avvicinare alle nuove obliteratrici. Inizieremo ad allargarlo a settembre con l'apertura delle scuole e ci auguriamo che nel 2025 sia integrato su tutta la regione. Quindi anche l'innovazione di poter dire a un residente o a un turista che arriva si può muovere in tutta la regione con un unico biglietto. Tramite app si potranno acquistare i biglietti e ricaricare il credito. Sui pullman da un lato l'obsoleto sistema di controllo biglietti che sarà eliminato, dall'altro Marta che individua subito i furbetti del ticket. Un suono sordo e il rosso sul display segnalano eventuali ricicli di biglietti. Il sistema dice a tutti ok, la validazione è ok oppure no, non hai il titolo, non è valido, non puoi salire. Il controllore strisciando la tessera sanitaria dell'abusivo sarà subito in possesso dei suoi dati e potrà procedere con la sanzione. Più di 7 milioni di euro di investimento, il 66% dei fondi arriva dalla regione, il rimanente 34% è a carico delle aziende firmatarie. Il tutto grazie a un protocollo di intesa sottoscritto da 35 operatori del trasporto, con l'obiettivo di semplificare la vita dei cittadini marchigiani e essere più accoglienti nei confronti dei tanti visitatori della regione. È un investimento importante che sicuramente ci terrà impegnati per molti anni ma che era necessario.